Cominciamo a fare un po' gli sconsiuri perché è il momento di tuffarci nel più grande film horror della storia del cinema. All'edere omaggio a questo film con la regia di Franklin di Peter Pletti abbiamo Yuma e Natasha, signore e signori calano le tenebre con l'esorcista. All'edere omaggio a questa volta, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.